La pandemia ha bloccato quasi tutti e nell'ultimo anno sono stati migliaia i voli rimasti a terra. I passeggeri che avevano acquistato il biglietto hanno ricevuto, come previsto nel Cura Italia, un voucher spendibile in 18 mesi. Passato però un anno dal volo annullato, è possibile riconvertire il voucher in denaro, venendo così risarciti dalle compagnie aeree. Ci sono state dozzine, anzi migliaia di voli cancellati a causa della pandemia. La pandemia è ritenuta una circostanza eccezionale, che però in base alla carta dei diritti del passeggero, in tempi normali, darebbe la possibilità al passeggero di ottenere il rimborso in denaro. Purtroppo con il Cura Italia, l'allora Presidente Conte ha permesso alle compagnie aeree di fornire un voucher in luogo del rimborso in denaro. Tale voucher però ha una validità di 18 mesi, dei corsi 12 mesi dall'emissione del voucher, il passeggero potrà, su sua richiesta, richiedere la conversione del voucher in denaro. Dunque possiamo esortare tutti i passeggeri a farlo tramite i canali ufficiali della compagnia aerea o tramite il loro legale di fiducia. Più o meno una stima di quanti sono i voucher in sospeso? Dozzine di migliaia, dozzine di migliaia. Solo il mio studio attualmente sta seguendo circa 200 pratiche.